Hanno tentato di derubare un anziano con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, ma sono state scoperte da un carabiniere e per loro sono scattate le manette. È successo lo scorso sabato nel centro di Subbiano, vittima dell'episodio un 91enne che era stato avvicinato da due ragazze, una 23enne ed una 25enne, entrambe romene e senza fissa dimora. Le due giovani inizialmente avevano chiesto informazioni, poi l'orario ed infine, forse per fargli credere che lo stavano ringraziando, si erano avvicinate all'anziano toccandogli braccio e polso, ma in realtà l'obiettivo era tutt'altro rubarghi l'orologio. Fortunatamente per il 91enne un carabiniere in borghese, libero dal servizio, stava passeggiando nella zona e dopo aver notato la scena ha sventato il furto. Successivamente ha chiamato i colleghi della stazione di Subbiano. Le due donne sono state così portate in caserma e identificate. Una delle due era una vera e propria ladra seriale, era infatti gravata da numerosi precedenti specifici per furti commessi in varie città della Toscana con lo stesso modus operandi. Entrambe sono state arrestate per tentato furto con strappo in concorso.